Le sfide dell'edilizia del futuro. Questo è il titolo del convegno di oggi, lunedì 28 novembre 2016, che si è tenuto a Milano presso l'Enterprise Hotel. Il convegno di infoprogetto, organizzato da Action Group Editore, ha affrontato tematiche relative alla riqualificazione, le tecnologie, le innovazioni, lo smart building, i materiali e la sostenibilità. L'evento ha visto la partecipazione di circa 200 architetti, che hanno avuto modo di incontrare anche le aziende presenti, che hanno potuto presentarsi e presentare i propri prodotti. La nostra azienda è da più di 50 anni che opera sul mercato, offrendo soluzioni costruttive per il foro finestra. Noi nello specifico facciamo sistemi monoblocco che integrano tutte le funzioni complementari a quelli che sono i seramenti. Di fatto è un'interfaccia tra la muratura e il seramento che deve essere in grado di garantire tutte quelle che sono le istanze prestazionali legate al foro finestra. Quindi in questo noi abbiamo ideato per primi un sistema monoblocco isolato da un punto di vista termoacustico e che sia in grado di ospettare tutti gli elementi di ombreggiamento e complementare alla finestra. Quindi viene inserito nel grezzo del seramento, della muratura, vengono fatte tutte le finiture addosso al nostro elemento e quindi poi viene imposato il seramento e all'interno del nostro elemento viene integrato il cassonetto per ospitare l'avvolgibile, l'eventuale frangisole, ci sono i punti cardine per le eventuali persiane abbattente e via di seguito. Diciamo che con il nostro elemento risolviamo anche tutte quelle che sono quelle prescrizioni che ci sono a livello progettuale in termini di eliminazione del ponte termico, bassa dispersione di energia, quindi basse trasmettanze degli elementi, da questione anche acustica. Grazie a tutti.